Con l'ingresso di Jeff ci siamo, si attende il segnale, partiti. Time Trial e Jeff insieme a Dillag si ritrae Blue Airborne all'esterno Petit Silu, mentre non ha colto un break buonissimo, invece Valle Nordica, che ora recupera, si porta all'esterno del gruppetto. Time Trial tende a passare su Jeff, che concede strada al rivale, all'esterno c'è la risalita di Valle Nordica, i primi tre che sono in diagonale dall'interno verso l'esterno, Time Trial, Jeff Valle Nordica, più indietro Illag insieme a Petit Silu, mentre scivolate in coda sul parziale, un po' violento, iniziale, Blue Airborne. Time Trial che non si risparmia in vantaggio, Jeff che galoppa da una lunghezza scarsa dal leader, a 3-4 lunghezze anche qualcosa di più, il resto della compagnia sono tutti un po' montati, visto che l'andatura è imposta da Time Trial, di quelle veramente selettive, Time Trial non si risparmia, Dario Vargi in sella, Jeff in seconda posizione, due che hanno acquisito margine da Illag, che prova a riportare al più astretto contatto il resto del gruppo, avanza bene all'interno Blue Airborne, che deve recuperare un po' di lunghezze, però galoppa bene al momento. E allora Time Trial che si scrolla di dosso, Jeff, Blue Airborne che prova a recuperare, deve recuperare 5-6 lunghezze da Time Trial, che a questo punto è scappato, Dario Vargi che è in controllo al momento sul resto dei rivali, Blue Airborne che filtra per linea interna all'esterno, Jeff, poi ancora Illag, Time Trial ha tutto sotto controllo, Time Trial nel tratto finale amministra il vantaggio acquisito, Time Trial facilissimo alla meta, su Illag che finisce bene per la seconda moneta, per la terza all'interno, Blue Airborne buca, Jeff. Time Trial, una passerella per Time Trial, facilissima vittoria, il doppio a seguire per Dario Nazionale, Dario Vargi per Grizzetti Galoppo, il numero uno che vince Time Trial a secondo il 6 di Illag, al terzo all'interno è il 5 di Blue Airborne, sul 4 di Jeff. Questo arrivo per la quarta corsa da Varese, il premio Mortirolo, la linea che torna alla nostra regia è la regia di Roma, sul canale 220.